Un tavolo tecnico per fare il punto della situazione sulla grande mole di lavori messa in campo dalla Regione e dal Governo attraverso i fondi di coesione. È quello che si è insediato in mattinata all'interno della sede del Consorzio Industriale del Lazio a Frosinone e che ha visto la presenza dell'assessore Angelilli. Abbiamo fatto un tavolo tecnico di lavoro soprattutto orientato a fare il punto sui quasi 50 milioni di euro che sono il frutto dell'accordo di coesione siglato nei mesi scorsi dal Presidente Rocca con il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Ministro Fitto. Si tratta di 39 opere ma ovviamente bisogna rispettare i tempi, bisogna controllare tutti gli adempimenti e quindi siamo al lavoro per questo. Fondi che come detto avranno una ricaduta su tutta la Regione ma che in Ciocciaria e nelle sue aree industriali hanno un enorme peso. Ci sono interventi su tutta la Regione e sicuramente anche la provincia di Frosinone ha il suo spazio. Vale la pena ricordare che questi sono interventi a lungo attesi e concertati con il territorio, quindi con le associazioni datoriali e con gli amministratori, soprattutto con i sindaci. Soddisfazione anche da parte di chi in questi anni ha gestito il Consorzio ed ha tracciato la roadmap degli interventi sul tessuto industriale regionale. Sono molto soddisfatto, abbiamo fatto un ottimo lavoro, ci siamo concentrati su questi interventi che saranno importanti e decisivi per lo sviluppo economico e produttivo della nostra Regione. La Regione ha fatto un grande lavoro, ringrazio l'assessore Angelilli e quindi si parte e si parte con il piede giusto. Sul commissariamento invece ancora nessuna decisione, la visita dell'Angelilli era già programmata da tempo e la decisione spetta al Presidente Rocca. Oggi io sono qui, diciamo, sulle mie funzioni di controllo e che sono appunto delle funzioni previste, ma la scelta del commissario è nelle disponibilità del Presidente Rocca.